CAPOVOLTI NELLA SITUAZIONE da ciò che realmente dovrebbe essere la vostra interiorizzazione, il vostro percorso interiore. Siate certi che voi siete, che esistete, non perché ve lo diciamo noi, ma perché voi sentite di esistere e di essere. La vostra esistenza non è limitata alle parole che vi doniamo o a quello che vi sentite dire dal mondo che vi circonda. Il vostro essere è completo e non ha bisogno più di tanto dell'esterno. In un certo senso l'esterno è un arricchimento ma non è fondamentale per nessuno di voi. Mentre vi vediamo capovolti nella situazione, vi vediamo proiettati in una ricerca esterna, in un qualcosa che pensate debba esservi donato, che vi debba raggiungere in qualche modo. Siete in attesa dei segni, ma fratelli, il tempo dei segni è finito per voi, perché nessun segno è in grado di incidere ciò che è già inciso. La vostra anima ha bisogno di una consapevolezza da parte della vostra mente, ma la vostra mente è distratta e cerca le risposte dell'anima altrove. È tutto molto più semplice di come credete. La vostra mente vi porta a voler complicare la semplicità, a non accettare la linearità delle cose. In realtà vi diciamo che il percorso per raggiungere voi stessi non è poi tanto lungo e non è complicato. Gli ostacoli sono quelli che la vostra mente decide di mettere, ma è una decisione che proviene da una mancanza di volontà. Continua.